Sapete cosa sto facendo? Questo è un controllo a ultrasuoni. Questo strumento alimenta questa sonda in modo che generi delle vibrazioni ad altissima frequenza nel materiale e ne percepisca gli ecchi. In questo modo possiamo verificare se all'interno del materiale ci sono delle discontinuità. Questo è uno strumento classico di Gilardoni, ma oggi abbiamo sviluppato anche una versione su tablet Android. Perché dovremmo utilizzare un tablet per eseguire un controllo ultrasonoro? Il tablet permette tutta una serie di altre funzionalità, tra cui le videochiamate, i comandi vocali, la geolocalizzazione, la visualizzazione e la modellizzazione del percorso ultrasonoro, la registrazione dei dati e la creazione di report. Insomma, anche gli ultrasuoni sono approdati nel mondo digitale. Se volete saperne di più, seguite il nostro canale.